Raga, mi devo spiegare che in pratica non so se forse più dirò il canale perché sta succedendo una cosa che in pratica il mio telefono da un po' esplode, ma non nel senso letterale, ma nel senso che proprio non va la memoria, quindi in pratica non riesco quasi a fare i video. Raga, magari perché dispiace, cioè se magari chiudo il canale, per quelli che gli dispiace, cioè mi dispiace anche per me, perché, caspita, è stato un bel canale, non so se lo chiuderò, beh, dipenderà dal mio telefono. Io sto facendo tutti i modi possibili per liberare la memoria e riuscire a fare i video, quindi non so ragazzi cosa succederà. Io spero di continuare il canale, per tutti quelli che magari stanno dicendo mi dispiace, tutte queste cose qua. Cioè raga, concordo con voi, anche a me dispiace. Grazie. Grazie.